Allora, Biblioboom torna, torna un settembre importante e torniamo in una location molto ma molto carina, Elio, ci troviamo da Tarantola, a Sesto San Giovanni. Buongiorno Francesco, buongiorno a tutti i nostri... Buongiorno, buon pomeriggio, buonasera, dipende da chi è anche ora, decidi di ascoltare e vedere il nostro VOD Podcast. Sì, come hai anticipato tu, oggi siamo in una nuova location, come dicono quelli bravi, non siamo più nelle nostre stanzette ma siamo alla libreria Tarantola dove Giorgio ci ospita per intervistare un libro, l'avete visto, un grande scrittore. Tommaso Scotti, Tommaso Scotti che adesso fra qualche secondo passiamo la linea perché sarà intervistato da Paola, Paola Marcangio, una nostra collega esperta assolutamente in libri e letteratura, però anche una grande fan di Tommaso Scotti. Perciò gli abbiamo chiesto, grazie Paola per aver accolto l'invito e per aver intervistato tu questo grande autore. È stato già nostro ospite in un'altra trasmissione, insieme a Paola abbiamo già conosciuto Tommaso, perciò ragazzi andate a rivedervi l'altra, mettiamo il link per andare a rivedere l'altra puntata, ma attenzione perché adesso la linea passa a Paola, assolutamente, a Paola. Grazie ragazzi e benvenuto a Tommaso Scotti. Tommaso abbiamo già avuto il piacere di conoscerlo due anni fa nel 2021, in occasione dell'uscita del suo primo romanzo, L'ombrello dell'imperatore. L'abbiamo intervistato, lui era a Tokyo e oggi abbiamo la fortuna di averlo qui nella libreria Tarantola che ringraziamo. Allora Tommaso, la prima domanda che ti faccio è sulla trama. Incontriamo ancora il protagonista, Tagessi Nishida, questo ispettore della polizia di Tokyo. Vuoi raccontarci il modo di incuriosire il lettore, ma da non dire troppo perché comunque c'è un'indagine in corso e un giallo? Il libro inizia con un cadavere e viene ritrovato. Inizialmente non c'è Nishida sulla scena del crimine, ma un suo collega. Nishida viene chiamato perché su questo cadavere, che all'apparenza sembra che possa trattarsi di un suicidio, però nelle ricerche e nei rilevamenti sul luogo si scopre che il cadavere aveva in tasca un vecchio biglietto da visita di Nishida. Quindi il collega lo chiama per dire qualcosa di strano, come mai questo qua si ritrova con il tuo biglietto da visita? Quindi Nishida si reca sulla scena e scoprirà che la persona che è stata uccisa o si è suicidata, non si capisce bene all'inizio, era un suo vecchio compagno di scuola. E già al momento, quando si trova sulla scena, lui capisce, insomma c'è qualcosa, gli fa un po' storcere il naso e dice secondo me non è un suicidio, ma per alcuni motivi penso che possa trattarsi di un omicidio. Possiamo dire che la vittima si chiama Kazama, è figlio di una famiglia di industriali, però ha scelto di fare una vita completamente diversa. Quando tu racconti di lui, del suo passato, gli fai dire a un certo punto volevo solo essere libero, come una foglia nel vento. La foglia nel vento è qualcosa che ricorre in questo libro, a partire dal prologo, bellissimo, leggetelo tutto, ma il prologo con grande attenzione, però la foglia nel vento è vero che è libera quando si stacca dal ramo, ma è anche vero che è destinata a cadere, perché siamo nella stagione dell'autunno. Anche l'autunno è un protagonista, mi sembra importante. Percepiamo nel tuo racconto i primi freddi, le bibite che da fredde passano a calde, le persone che iniziano appunto a vedere anche la natura come cambia, inizia questo foliage molto famoso che attira anche i turisti. L'autunno si vede anche nella copertina, perché nei diavoli di Tropyo Ovest i colori sono i colori autunnali. Come mai questa scelta di rendere un'autunno? Allora, la scelta è un po'... I primi due libri sono ambientati in estate, piena estate, agosto, cioè prima la stagione delle piogge, che è un'altra caratteristica dell'estate. E allora ho pensato, siccome in Giappone le stagioni sono abbastanza sentite, ognuna ha una sua caratteristica, delle sue peculiarità, viene vissuta in un certo modo, ha della cosa appunto che ha una caratterizzazione stagionale molto forte in Giappone, anche negli haiku per esempio, nella poesia è sempre, sono poesia, arte, sono sempre molto legate alle stagioni in generale, tanto negli haiku per esempio c'è proprio, c'è una parola per indicare la parola stagionale, c'è sempre una parola che deve far capire in che stagione ci si trova, capito? Quindi, e allora ho detto prossimo, perché noi lo facciamo in autunno, che è insomma una stagione che poi a me piace molto, è molto per definizione malinconica, e il Giappone poi, come in molti altri paesi, però nella natura ha dei colori bellissimi, con gli aceri, tutto è un'esplosione di gialli e rossi, è molto bello, è molto particolare, e allora ho detto facciamolo in autunno, più appunto proprio perché è una stagione così malinconica, eccetera eccetera, ci sono anche varie espressioni in giapponese per definire determinate sensazioni, ho detto si sposa bene con un noir, con un romanzo del genere. Abbiamo detto il protagonista, Takeshi Nishida, l'ispettore è un mezzo sangue, una madre americana e un padre giapponese, quindi è cresciuto in Giappone, ma con un occhio diciamo anche critico rispetto alla società giapponese. A questo proposito volevo leggere una frase che non è di Nishida, è sempre di Kazama, perché poi ti voglio chiedere una cosa, questo non è un paese per liberi pensatori, questo è un paese che ti infila dentro un mortaio di regole e formalità e ti pesta fino a che non ci stai schiacciato bene dentro. Allora, noi occidentali pensiamo, quando pensiamo al Giappone pensiamo a un paese perfetto, dove tutto funziona, dove c'è ordine, pulizia, dove le persone sanno stare al proprio posto, in realtà forse c'è un eccesso di formalismo, mi sembra di capire, che è molto diverso da quello che la sostanzialmente. Dio che eccesso di formalismo è come dire, è vero che c'è quest'ordine, la gente sa, si comporta in un certo modo, però diciamo che tutto ha un costo, quindi il prezzo da pagare per avere quest'ordine, questo modo comportamentale, tutti che si comportano in un certo modo, seguono i protocolli, ovviamente per alcuni va stretto, perché è un paese che si basa molto su regole, protocolli, tanto che anche quando parlo con gli amici, addirittura gli dicono, è meglio se quelli che magari sono studiati all'estero parlano inglese per dire, cioè no, parliamo inglese perché alcune cose non riesco a dirle in giapponese, non mi trovo bene, si sentono addirittura più liberi anche solo a parlare in un'altra lingua, quindi a volte non sanno bene come esprimere cose proprio nella lingua loro, non perché non sappiamo, ma proprio che è un modo di esprimersi diverso, dicendo, no, in giapponese non mi viene di dire una cosa del genere, è perché è tutto costruito in base a protocolli e regole, 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 e chiaramente questo ha un prezzo da pagare, ovviamente. Io quest'anno sono stata a Tokyo e ho trovato tantissimi elementi dei romanzi di Tommaso, il caffè, il boss che è il preferito di Tagei Shinishida, all'ombrello trasparente venduto nei combini che è il protagonista del primo romanzo, alla torre, al Tokyo Tower, che mi aspettavo a dire la verità più decadente da come la descrivi, invece l'ho trovata bellissima, maestosa, e ho notato, non so, ho avuto questa impressione, persone che si muovono come appunto una comunità, ogni nostro posto, ma fondamentalmente sole, anche nei ristoranti, non ho visto le tavolate come noi, ci sono, anche un po' a dire che Tokyo poi è particolare, perché pure un po', molta gente viene da fuori per lavorare, quindi magari non hanno la famiglia lì, si fanno degli amici sicuramente, eccetera, però c'è molta gente, anche semplicemente il fatto di vivere il pasto, le cose, noi magari stiamo a tavola tre ore a parlare, dopo che è finito, si chiacchiere, ma magari pure, perché vanno agli zacaia, magari che sono un specie di, non so, posti dove si ha più che altro per bere, per mangiare, c'è anche da mangiare, ma insomma, e ci stanno tavolate, la gente va a beve, si diverte, passa il tempo insieme, e ci sono, però forse, non lo so, per quello che vedo io, pure è un po' più chiuso, le persone tendono a stare, anche molto da sole, ovviamente dipende, pure là, da persone, però forse anche semplicemente il modo di vivere diversamente i rapporti interpersonali, e quindi, non so, chiaramente si fa, c'è proprio il nomi kai, si chiamano, le bevute, sono gli appuntenti per bere, al lavoro, che si va tutti insieme, quelli dell'azienda, le cose proprio le aziende giapponesi lo fanno, almeno anche una volta al mese, però si va a bere a volte, anche con gli amici, eccetera, eccetera, però, non so, sì. Va bene, tornando al libro, una domanda sulla scrittura, ho trovato molti punti molto poetici, dove cambia proprio il modo di scrivere, cambiano le frasi, sono più corte, c'è una punteggiatura che induce il lettore a fermarsi, a soffermarsi, senza togliere niente al ritmo incalzante della storia, però c'è alcuni punti in cui è piacevole anche, e mi hanno dato la sensazione di un ritmo musicale. Sì, sicuramente ce lo faccio anche spesso apposta, ce lo vedo proprio tipo frase musicale, me la leggo, perché tu sei musicista, sì, vabbè, lo suono, però la vedo proprio come punteggiatura, tipo qua, c'è una pausa, una cosa, gli do molto ritmo apposta, poi, insomma, quello che vedo io, me lo sento qua, secondo me sta bene così, sta bene, ci metto magari delle virgole, dove magari non ci andrebbe nemmeno grammaticalmente, ci sono poi, le regole ci sono, però secondo me là una pausa ci sta, e quindi sì, lo faccio molto apposta, anche liberamente. Sì, ma il tutto lì molto libero. Quando hai scritto l'ombrello dell'imperatore, prima avventura di Nishida, sapevi che avrebbe vissuto altre storie, o è il pubblico che ti ha chiesto? No, nel senso, quella era una storia che avevo in mente, la volevo scrivere così, poi, e, non sapevo, assolutamente, non avevo idea che sarebbe andato avanti, poi, un po' perché è piaciuto, un po' perché, comunque il personaggio mi sembra, avesse ancora cose da raccontare, allora ho continuato. Ultima domanda, hai vissuto in diverse parti del mondo, anche molto diverse, in Finlandia, in Cina, e da dieci anni sei in Giappone, col senno di qua, conoscendo a fondo il Giappone, come lo conosce oggi, lo risceglieresti? bella domanda, non ci ho mai pensato, ci devo pensare, perché per alcuni versi sì, sicuramente sì, però anche per altri no, quindi, non saprei rispondere, però più sì che no, sicuramente forse, direi di sì, perché poi tutto sommato, mi piace, ci sta ancora, se no magari me ne sarei andato, però è anche vero che, non è che perché uno, più rimani, più diventa difficile andarsene in generale, perché diventa un po' una seconda casa, poi il lavoro, la carriera, le cose, quindi, però sia una bella domanda, sicuramente l'avrei vista in modo diverso. Va bene, allora, grazie a Tommaso Scotti, ricordiamo l'ultimo romanzo, I Diaboli di Tokyo Ovest, ricordiamo anche gli altri romanzi, che sono disponibili in biblioteca, Due morti del signor Miara e l'ombrello dell'imperatore, ringraziamo naturalmente la libreria Tarantola per l'ospitalità, alla prossima. Grazie, grazie. Grazie.